Il brano che eseguiremo è stato scritto apposta per questa circostanza ed è la marcetta del soldo laddove soldo è una sorta di deformazione linguistica del soldà perché al marciare sono i soldati quindi del soldo perché è basata sulle note soldo l'inizio, le prime note che suonano nel tema principale sono appunto le note soldo è un pezzo scritto per flauti dolci e banda quindi ci sarà un dialogo tra questi due tipi di strumenti gli strumenti della banda che si studiano solitamente nelle scuole di musica e i flauti dolci che si studiano a volte, cioè che si studiano solitamente nella scuola media ma qui a Castel Gandolfo avete la fortuna di avere il maestro Carmelo Triscari che ha messo una scuola ed è il primo a divertirsi e tornare i ragazzi con questo strumento quindi ascoltiamo la marcetta del soldo eseguita dall'ansamblo di flauti dolci di Castel Gandolfo è un compositore italiano il maestro non ci ha voluto dire chi l'ascuta un compositore italiano non è che era baldostano anche allora i flauti dolci ci sono i flauti dolci di Castel Gandolfo del maestro Carmelo Triscari grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.